Ciao a tutti, questa è la seconda parte del doppiaggio dell'episodio di Bluey, quindi se non avete visto la prima parte, correte a vedere quella. Oppure non lo fate affatto, fate come vi pare. Buona visione! Bluey spesso viene visto come un cartone per bambini che piace anche agli adulti. Ma quell'episodio non era pensato per i più piccoli, si rivolgeva a tutte le mamme che stavano guardando e che dubitavano della loro capacità di essere madri. Quando è che Cocomelon ha mai fatto qualcosa del genere? Immaginate tutti i bebè che smettono di cantare filastrocchi e guardano direttamente in camera e dicono Ehi mamma, volevo solo dirti che stai facendo un ottimo lavoro nel crescere me. No, non accadrà mai! E non ho ancora finito di parlare di quanto sia impressionante la scrittura di Bluey. Quindi per favore prestate attenzione, ora entro in video i 6 mod mentre esploriamo a fondo i temi e i simbolismi di uno dei miei episodi preferiti di Bluey. Signore e signori, scatoloni! L'intero episodio è un'allegoria della storia dell'umanità raccontata rispettivamente da una prospettiva religiosa e da una scientifica E affronta le relazioni in continua crescita tra una madre e il figlio E tutto in soli 7 minuti Tranquilli, sarà divertente questa parte Diamo inizio alle danze Bandit e Cilli sono alle prese con il montaggio di una nuova altalena E ci viene regalata una fantastica battuta di Bandit che si lamenta delle istruzioni dicendo Non accetto nessun consiglio da un cane disegnato Nel frattempo le ragazze giocano con della plastica scoppiettante da imballaggio Che è stata gettata in cortile dai loro genitori Bluey e Bingo amano quella cosa scoppiettante e fingono sia acqua e loro dei pesci Poi prendono uno scatolone che fingono sia terra e loro delle rane Poi si mettono delle code e diventano delle lucertole Poi diventano T-Rex, poi uccelli, poi piccoli fiorri Quest'ultima parte vi è familiare vero? Ho 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 Poi diventano delle scimmie e infine dei cani cavernicoli Cosa sei tu, signor Darwin? Le ragazze stavano rappresentando l'evoluzione dell'uomo attraverso uno stupido gioco Ma ora, se non ti è piaciuto il simbolismo dell'evoluzione So chiamerai il fatto che i genitori siano un'allegoria per rappresentare il creatore Sì, insomma, il grande creatore lassù o qualunque altra cosa in cui crediate I genitori forniscono alle ragazze l'intero mondo proprio come Dio Le danno il mare, la terra, i vulcani e gli alberi In queste pitture rupestri le ragazze creano il racconto della loro vita E raffigurano i genitori come dei divini in alto tra le nuvole Da qui sembrano un po' arrabbiati Saranno ancora nell'Antico Testamento L'idea dei genitori come creatori viene marcata nuovamente da Bandit e Cilli Quando guardano le ragazze giocare e dicono Alle nostre piccoline Sono opera nostre I genitori danno alle ragazze una chiave esagonale Ovvero un attrezzo E una rivoluzione industriale dopo Le ragazze evolvono da cani cavernicoli a cani moderni Costruendo città futuristiche e astronavi Poi, nel corso dell'episodio Mentre le ragazze attraversano diverse fasi dell'evoluzione Passano anche attraverso diverse fasi della loro vita come madre e figlia Infatti, mentre sono pesci Bluey afferma di essere la mamma pesce Bingo la sua cucciola Mentre sono rane Bingo si finge una bambina piccola E Bluey le insegna come catturare le mosche Poi da T-rex Bingo diventa una ragazzina Come di cani cavernicoli diventa adolescente Infine nell'ultima fase è diventata adulta Pronta a esplorare l'universo da sola Davvero commovente Ringrazia mamma Bluey per essersi presa cura di lei E parte sulla sua astronave Bluey, ormai molto anziana Come dimostrato dal fatto che deve usare un bastone Attraversa la soglia del polistirolo Che rappresenta la sua morte Poi si riunisce con i suoi creatori Tutto questo mentre suona un capolavoro orchestrale Improvvisamente ti rendi conto di essere commosso Come siamo arrivati fin qui E poi Bandit lega tutta l'allegoria Chiudendo l'episodio con un Che paradiso Vi state prendendo in giro Questo cartone animato per bambini Riesce a raccontare una storia intelligente Con sfaccettature religiose sensate E... Quanti minuti poi È davvero riuscito a farmi commuovere Per dei cani animati Ma questo non è l'unico episodio Su cui poter realizzare un video i sei Ci sono molti altri episodi Che colpiscono proprio come questo Mentre facevo una ricerca per questo video Ho iniziato a riflettere su un altro cartone animato Per bambini straniero Con episodi della durata di otto minuti Che si concentra su una famiglia con due bambini piccoli Ma a differenza di Bluey Questo cartone animato è odiato dal mondo intero Caillou Sto parlando di Caillou Penso proprio che le persone odiassero Caillou Perché rappresentava in modo troppo realistico Un bambino piccolo Ma in quei pochi episodi di Caillou Che ho guardato mi sono ricordato Giusto, ecco perché la gente odia Caillou Perché è insopportabile La sua maleducazione è esagerata E senza alcun motivo Caillou si sta preparando al mattino Versa il cibo per i gatti e dice Gilbert, guarda cosa hai fatto Qui è in spiaggia E ad un uccello che non ha fatto nulla di male Gli urla Va via Ci sono molti altri esempi di Caillou Che si comporta in modo fastidioso E non posso fare a meno di pensare che la sua stridula Irritante e lamentosa voce Non aiuti a renderlo un personaggio simpatico Qualcuno gli tappi quella bocca per favore Cioè immagino che i bambini piccoli possano essere un po' birbanti a volte Ma perché mostrare questo aspetto del cartone animato senza fare imparare alcuna lezione? Io non ho imparato niente da quel cartone Dato che Caillou era sempre molto maleducato Alcune persone, me compreso Si sono chieste perché i genitori di Caillou non lo correggessero mai O cercassero di cambiare il suo stupido comportamento Però dopo averci riflettuto a lungo Ho capito che l'eventuale episodio sarebbe stato molto strano Cioè immaginate se un giorno la mamma dicesse Caillou Come hai combinato tua sorella? È tempo che si trucchi mamma Caillou Quei trucchi sono miei e costano tanto Quante volte devo dirtelo di non toccare le mie cose? Vieni qui grandissima testa di Ah! 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 Ti hai ottenuto quello che ti meritavi stronzetto Non so, forse quell'episodio potrebbe essere terapeutico Comunque tornando al vero miglior cartone animato per bambini di sempre Anche se Bluey è letteralmente lo show più incredibile, intelligente ed educativo per le menti di bambini adolescenti, adulti, genitori Una certa azienda che disegna Topi ha deciso di censurare alcuni degli episodi sulla sua piattaforma Hanno censurato anche scene che erano solo bizzarre Questo cavallo che fa la cacca Bandit che viene colpito dove fa più male Bandit che dice inguine Questo autostoppista che viene dall'Argentina Il che è abbastanza strano Questo gatto finto che dice che farà finta di fare pipì sulle tende Bandit che lascia intendere di volere un ritocchino proprio lì Adulti sapete di cosa sto parlando E gli ultimi dieci episodi della terza stagione che sono tra i più profondi della serie Non sono nemmeno su Disney Plus Ma potrebbe essere solo una questione di licenza, non lo so Ero impaziente di vedere l'episodio sull'infertilità Ne avevo sentito parlare a lungo Arrivato all'ultimo episodio su Disney Plus ho pensato Hanno lasciato il più bello per ultimo E va bene, allora guardiamolo Ma l'episodio trattava della famiglia che simula un processo per determinare Se Bandit avesse fatto una scoreggia Spero che questo video vi abbia convinto a dare una possibilità a Bluey Voglio dire, siete ancora qui ad ascoltare un adulto che parla di quel cartone Quindi credo che un po' vi piaccia almeno Attraverso la sua rappresentazione realistica e facilmente identificabile della vita familiare Lo show non solo ha intrattenuto Ma ha anche trasmesso preziose lezioni di vita ai suoi spettatori L'accento che lo show pone sul gioco e sui legami familiari è estremamente rinfrescante Soprattutto in contrasto con i soliti programmi frenetici e monotoni pensati per i bambini Detto ciò caro mio, se non sei ancora convinto di guardare Bluey Hai mai pensato di guardare un episodio dopo aver assunto qualche sostanza?